Musica Al vaglio della polizia locale, la dinamica del sinistro è avvenuto questa mattina, mercoledì 9 maggio intorno alle 10.30 in Corsa Alessandria, nei pressi di Via Paganelli, a scontrarsi una matiz e una Volkswagen App, proveniente da Via Paganelli verso Corsa Alessandria, entrambe guidate da coppie di coniugi. La coppia sulla matiz è stata subito soccorsa dalla Croce Reale Veneria e trasportata all'ospedale Malevittoria. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS